E' uno dei pochissimi centri del riuso presenti nella nostra regione. Dal 22 aprile prossimo in Vianilo a Montesilvano sarà a disposizione dei cittadini che potranno portare oggetti e beni di consumo in buono stato che poi dal 22 maggio chi vorrà potrà ritirare. Consegna e ritiro saranno completamente gratuiti. Il centro gestito da Formula Ambiente è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Montesilvano per una città sempre più sostenibile e a misura d'uomo. Assessore, questa iniziativa è fortemente voluta dalla vostra amministrazione, perché? Beh, è fortemente voluta dall'amministrazione perché consente di poter migliorare ancora il ciclo dei rifiuti, quindi si può avviare la fase del riuso, tutti quei materiali che per noi non hanno più una utilità in casa ma possono benissimo essere utili per altre persone, quindi essere riutilizzati. Si riesce in questa maniera a ridurre la quantità di materiali da smaltire e magari creare anche un beneficio a coloro che potranno prendere questi materiali. Un'iniziativa che vede impegnati il Comune di Montesilvano e anche la Regione con una doppia contribuzione? Sì, la Regione attraverso un bando qualche anno fa ha consentito ai Comuni appunto di poter utilizzare di un finanziamento a fondo perduto per circa il 70% delle spese. La restante parte è stata messa dal Comune di Montesilvano. Purtroppo poi il Covid ci ha rallentato un po' le fasi finali, siamo dovuti intervenire per migliorare e sistemare altri aspetti di dettaglio e finalmente siamo arrivati a conclusione. Cosa si potrà portare in questo centro di riuso, Assessore? Fondamentalmente tutti quei materiali che per noi non hanno più utilità, come dicevo prima, ma che possono essere ancora utilizzabili. In questa fase abbiamo scelto di prendere tutto ad esclusione degli apparati elettrici e dei vestiari. E i giochi dei bambini superiori ad 8 anni. Poi questa mattina lanciate anche un messaggio alla cittadinanza con largo anticipo perché da questi giorni fino al 22 insomma cercherete di informare tutti i cittadini su questa iniziativa. Sì, l'iniziativa di partire un po' prima con questa comunicazione è proprio questa, l'importanza di insegnare alle persone, cercare di fargli capire che quei materiali possono venire a portarli da noi anziché disfarsene in discarica o nei bidoni o nel nostro centro di raccolta. Siccome è un messaggio nuovo ci sembrava il caso di partire in anticipo per far sì che iniziamo ad acquisire la consapevolezza che esiste questo nuovo metodo per riutilizzare i materiali. Parliamo di un'iniziativa che vede Montesilvano capofila o quasi nella nostra regione per una città sempre più pulita, una città sempre più sostenibile. Sì, diciamo che in Abruzzo esistono pochi altri centri del riuso e noi siamo felici appunto di essere riusciti a realizzarne un altro. Io lo sono ancora di più perché mi occupai dell'intercettazione del finanziamento della passata amministrazione, della fase della realizzazione dei lavori e quindi oggi fino ad arrivare oggi alla conclusione di questi. La speranza è sempre quella di migliorare il decoro urbano della nostra città. Noi abbiamo purtroppo ancora degli abbandoni indiscriminati, nonostante esiste un centro di raccolta, nonostante si può telefonare un servizio gratuito di prelievo dei rifiuti a casa. Oggi mettiamo a disposizione dei cittadini questo ulteriore tassello. Io spero che tutte queste cose possano consentire veramente un miglioramento del decoro urbano. Ingegner della Corina, una iniziativa dalla grande Valenza che mancava alla città di Montesilvano. Sì, siamo molto contenti di aprire questo centro perché diamo la possibilità ai cittadini di portare qui beni che non sono ancora considerati rifiuti ma che possono servire ancora a qualche un altro. Questa è una fase iniziale in cui dobbiamo solamente accogliere i rifiuti. Abbiamo previsto due giorni, il giovedì pomeriggio dalle 3 alle 6 del pomeriggio e il sabato mattina dalle 10 all'1. Tutti i cittadini di Montesilvano possono portare gli oggetti, gli suppellettili che non usano più, che hanno in casa, come il mobilio, lampadari, abbigliamento. L'abbigliamento è quello per bambini, passeggini, carrozzine, stoviglie. Poi in una seconda fase sarà possibile portare anche altre cose come l'abbigliamento e come gli elettrodomestici. Adesso qui noi abbiamo fatto un elenco non esaustivo di quello che può essere consegnato. L'operatore valuterà se questo bene ha ancora un mercato, per così dire, una richiesta da parte di altre persone e verrà catalogato, verrà immagazzinato e chi ha desiderio, necessità di vedere cosa può venire a prendere potrà consultare un catalogo multimediale, stiamo allestendo una pagina web dove prima ancora di venire qui si potrà consultare questo catalogo e poi successivamente venire qua. Tutto questo avviene in maniera gratuita, cioè chi consegna non prende soldi e chi preleva non prende soldi. Questa è un'attività, un'iniziativa voluta dalla Regione Abruzzo e poi recepita dal Comune di Montesilvano appunto per favorire una seconda vita alle cose. In questa prima fase almeno, Ingegner della Corina, non si potranno portare alcuni tipi di giocattoli, anche gli elettrodomestici? Sì, perché stiamo valutando anche gli aspetti riguardo la responsabilità sui possibili danni che possono derivare dall'uso di questi beni, quindi per esempio adesso non accettiamo giocattoli per bambini sotto agli 8 anni perché presentino parti che si possono staccare perché dobbiamo valutare la sicurezza, noi dobbiamo essere certi che quello che andiamo a riconsegnare alle persone possa essere usato in totale sicurezza, così come i piccoli elettrodomestici dovremo capire come poterli farli verificare e certificare da una persona, da un ente, in modo di poterli riconsegnare in totale sicurezza. Ovviamente la raccomandazione è quella di portare beni di consumo in discreto stato. Certamente, noi non parliamo di rifiuti, parliamo di beni, cioè di oggetti che possono essere ancora utilizzati quindi le apparecchiature e quant'altro non devono essere otti ma devono essere in buono stato di conservazione. Sappiamo che a volte per la frenesia anche del consumismo si tende a buttare tanta roba che potrebbe essere ancora utilizzabile da qualcuno. Quindi ecco, sono accettate gli oggetti e i beni su pellettili che hanno ancora una possibilità di una seconda vita. Si partirà il 22 di aprile e poi ci sarà un mese di tempo per i cittadini per poter poi venire qui in Via Nilo. Esatto. Noi abbiamo pensato di iniziare l'attività di ricezione merce a partire dal 22 aprile, il giovedì pomeriggio e il sabato mattina e in questa prima fase, in questo primo mese, noi ci occuperemo solamente di ricevere i beni, di catalogarli e di immagazzinarli. Poi dalla seconda metà di maggio cominceremo a distribuire a chi lo vorrà, vorrà venire a vedere anche per semplice curiosità cosa ci sta o ha bisogno di qualche cosa. Ingegnere, per chiudere, questa iniziativa che vede all'unisono comune di Montesilvano e Formula Ambiente, un'iniziativa che vuole far sì che Montesilvano sia sempre più una città sostenibile, una città a misura d'uomo. Certo, la sostenibilità passa attraverso l'impegno di tutti i cittadini, la consapevolezza che ognuno è responsabile delle risorse che noi consumiamo e quindi dobbiamo stare attenti ai nostri acquisti e quando noi ci dobbiamo disfare di qualcosa, pensare se quello di cui ci vogliamo disfare sia già un rifiuto o possa servire a qualche di un altro, specialmente in questo tempo di crisi dove magari ci sono delle persone che hanno scarse disponibilità economiche.